buongiorno a tutti ragazzi sono Zabrexty ed eccezionato in questo video vi saluto di TomRider sono in compagnia di Bestrage90 che è il tuo canale in descrizione se volete avere informazioni sta giocando lui solo per 5 minuti credo che dopo devo andare via vai giù proprio qui mi ricordate che eravamo arrivati a questi corsi scusate perchè ho avuto un po' di ritardi con TomRider perchè ero troppo... cioè sono andato un po' troppo avanti con Minecraft mi scuso veramente tanto mi dispiace ragazzi siamo arrivati al 22-23% una roba di genere ok su eh non guarda i miei video ragazzi bastatto ok mappa aggiornata bene no tab su tab è per la mappa ma di prenderlo su così vedi dove di andare no davvero questo lo so io lo so non posso mettere via è un po' fastidio è un po' fastidio è un po' fastidio un toccio ehm ok ora premio Q e che c'è? allora non mi ti guarda mi devi andare vedi che ci sono si lo so e buttiamoci ma la ragazzi dove era tutto l'aereo perché mi ricordo che era tutto l'aereo mi si calma non puoi fare eh ah dove saltava si si salta pure salta pure salta 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 eh accendilo accendilo è è Gli piace giocare per tastare mouse, invece mi faccio un po' giusto. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no.